nell'era glaciale le avventure di buck ho prestato la mia voce a orson stato un personaggio molto devo dire un simpatico un simpatico cattivo il mondo perduto il luogo più pericoloso dell'universo per creare la voce di orson abbiamo lavorato con alessia mendola alla mia insomma ai miei bassi perché comunque stai facendo un cattivo quando c'è questi bassi ho potuto lavorare appunto su questa parte della mia voce però la cosa divertente è stata che ovviamente lui non essendo un vero cattivo quando la cosa divertente era riuscire a fare dei cambi di tono praticamente sulle parti dove lui invece si spaventa e quindi è stato molto molto bello molto divertente ascoltate in con me una grave minaccia e allora non mancate non potete perdervi l'era glaciale e avventure di buck su disney plus